Parliamo adesso dello stereotipo. Come abbiamo visto, se i pregiudizi possono essere interpretati come una precondizione della conoscenza che andiamo costruendo e definendo col tempo, lo stereotipo è invece la sua cristallizzazione, una cristallizzazione molte volte moralistica e semplificatoria delle definizioni. Anzi, potremmo iniziare citando la scrittrice afroamericana Toni Morrison, la quale costumava dire e chiedersi chi definisse le definizioni, dicendo come le definizioni appartenessero ai definitori e non ai definiti. Lo stereotipo si configura come una credenza socialmente condivisa e culturalmente trasmessa, articolata attraverso un insieme di caratteristiche attribuite ad un gruppo di soggetti o anche a una classe di oggetti simbolizzati come portatori di valori più o meno buoni. E credenze quindi formulate secondo criteri non logici. Il contenuto dello stereotipo infatti è sempre semplificatorio ed è anche refrattario alle controprove della realtà, come una stratta generalizzazione pressoché priva di una concreta razionalità. Gli stereotipi non sempre dipendono dall'esperienza diretta. Ci arrivano già pronti e preconfezionati all'interno di particolari contesti sociali, economici, culturali, religiosi e politici in cui siamo immersi. Il preconcetto porta inevitabilmente alla formazione di giudizi e atteggiamenti aprioristici. Tuttavia il loro grado di attendibilità e efficacia sociale è determinato dalla quantità e qualità delle esperienze che si hanno con gli elementi che formano la categoria dello stereotipo e dalla coerenza logica di tale categorizzazione. Per esempio, quando si interagisce con gruppi sociali nuovi e si entra in un territorio sociale sconosciuto, sorgono sentimenti di incertezza e di preoccupazione, che possono influenziare gli stereotipi che le persone si formano o rinforzare quelli che già sono esistenti. Lo stereotipo tende come ad omologare le persone, le fa apparire più simili tra loro di quanto non siano. Si sopravvaluta così l'uniformità dei componenti di un gruppo e si trascura la reale diversità. Lo stereotipo corrisponde ad immagini mentali semplificate dell'aspetto e del comportamento dei gruppi. Non si limitano a dare una definizione di come i gruppi appaiono o agiscono, ma pretendono stabilire come i gruppi sono, cioè quali tratti della personalità sono comuni ai componenti di un gruppo, determinando così le emozioni e i sentimenti che suscitano negli altri. Un processo di stereotipizzazione è intimamente legato a quello della stigmatizzazione. I greci, per esempio, dettero origine alla parola stigma per indicare quei segni fisici che caratterizzano quel tanto di insolito e criticabile di chi li porta, attribuendogli una condizione morale specifica. Questi segni venivano incisi col coltello, impressi a fuoco nel corpo e rendevano chiaro a tutti che chi li portava era, per esempio, uno schiavo, un criminale, un traditore o comunque una persona segnata, un paria che doveva essere evitato, specialmente nei luoghi pubblici. Oggi, quando ci troviamo davanti un estraneo, è probabile che il suo aspetto immediato ci stimoli a tentare di inquadrare a quale categoria potrebbe appartenere e quali sono i suoi attributi, qual è, in altri termini, la sua identità sociale. Un estraneo che incontriamo ci sollecita un processo di stigmatizzazione quando intravediamo le prove che egli possieda un attributo che lo renda diverso dagli altri, deficitario delle caratteristiche personali e dei membri cui siamo abituati a riconoscere come adeguate. Nella nostra mente viene così declassato, segnato, screditato. Tale attributo è uno stigma, specialmente quando ha la capacità di esercitare un profondo effetto di discredito. Talvolta viene anche definito attraverso una mancanza, un handicap, una limitazione. Allora, il termine stigma verrà ad essere usato per riferirsi a un attributo profondamente dispregiativo, ma si deve notare che ciò che veramente conta è un linguaggio dei rapporti e non degli attributi. Essere soggetto a uno stigma significa essere portatore di una diversità non desiderata rispetto a quanto noi avevamo anticipato. Al contrario, noi e tutti coloro che non si allontanano in modo negativo dalle aspettative particolari considerate moralmente lecite, possiamo essere definiti come inormali. Gli stereotipi vengono trasmessi il più delle volte inconsapevolmente ai bambini che li imparano dai loro genitori e dai loro insegnanti. I bambini apprendono osservando e imitando le persone più grandi di loro, oppure apprendono attraverso i mass media. Una volta formatosi uno stereotipo influenza quello che le persone pensano e il loro comportamento nei confronti dei gruppi stereotipizzati. Gli stereotipi vengono attivati se gli indizi di appartenenza a una categoria sono più evidenti e salienti. Gli stereotipi si attivano quasi automaticamente se la categoria viene frequentemente utilizzata, perché la visibilità di indizi collegati all'appartenenza a un gruppo possono portare alla mente informazioni stereotipate, anche se inconsapevolmente. Gli stereotipi o i sentimenti legati allo stereotipo, una volta attivati, servono da base per formulare giudizi o guidare l'azione nei confronti di un gruppo. Quasi tutto ciò che diminuisce la capacità cognitiva di una persona può aumentare l'effetto degli stereotipi sul suo giudizio. Anche le nostre aspettative possono essere stereotipate. Tendiamo a notare e anche a ricordare quello che ci aspettiamo di vedere. Tra informazioni in linea con lo stereotipo di informazioni incongruenti rispetto ad esso, le prime sono più pregnanti e le selezioniamo più facilmente come rivelatrici di una presunta identità. Anche i ricordi sono stereotipati. Le distorsioni stereotipiche influiscono non solo sulle informazioni che ricerchiamo o cui prestiamo attenzione, ma anche su ciò che ricordiamo. In determinate condizioni, il contatto diretto tra membri di gruppi diversi può ridurre la stereotipizzazione, il pregiudizio e la discriminazione tra gruppi. Tuttavia, dobbiamo affrontare delle resistenze al contatto e al tipo di informazioni che ci vengono dall'incontro. Le informazioni incoerenti con lo stereotipo e con le aspettative per i concetti vengono neutralizzate generalmente tramite spiegazioni che pretendono essere razionali, ad esempio quando diciamo l'eccezione che conferma la regola. Però abbiamo anche momenti in cui possiamo dire che è situazione in cui il contatto funziona. E quando è che realmente funziona? Quando l'incoerenza, cioè l'inaspettato, si ripete e presenta più volte. Affinché lo stereotipo cambi, i comportamenti che lo contraddicono si devono verificare più volte. Bisogna avere l'opportunità di verificare come tale imprevista incoerenza sia diffusa in molti componenti del gruppo che si vorrebbe in realtà come ingabbiare e rigidire in definizioni che corrispondono ai nostri preconcetti. Bisognerebbe avere l'opportunità di verificare l'appartenenza al gruppo da parte di individui atipici. Stimolare un contatto che incoraggia lo sviluppo di un rapporto personale fondato su sentimenti positivi può essere un ottimo modo per rendere l'incontro prolifico e produttivo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.